Buongiorno dalla redazione di Muoversi in Toscana Info, in studio Andrea Biagioni. Incidente in A12, a Colle Salvetti, in entrata in direzione Rosignano. In A1 rallentamenti tra Calenzano VI Fiorentino e il Vivio con la variante del Valico in direzione Bologna. Fare attenzione ad un veicolo fermo in avaria tra Arezzo e Monte San Savino in direzione Roma. Sul raccordo Siena-Firenze si ricorda di fare attenzione per lo scambio di carreggiata a causa di lavori tra Monte Rigioni e Siena in direzione Siena. Firenze, cantiere linea 3 della tramvia, si ricorda che per effettuare il rifacimento delle volte sarà chiuso il transito nel sottopasso ferroviario di Via dello Statuto. Treni, l'intersiti 35-39-4, Reggio Calabria-Torino, viaggia con 44 minuti di ritardo, ferma a Campo di Marte alle 10.50, a Prato alle 11.12. Muoversi in Toscana Info è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!